Nelle ultime settimane è cresciuta esponenzialmente l'attenzione nei confronti dell'epidemia di ebola che si è propagata in alcuni paesi africani. Per il vaccino occorrerà attendere altri due anni. Intanto, in un'intervista rilasciata a stop, Barbara De Rossi è tornata a parlare dell'esperienza vissuta due anni fa. L'attrice e presentatrice si trovava in congo con Michele Cucuzza per registrare la puntata zero di un nuovo programma RAI. I due rimasero bloccati lì, a causa dell'allarme ebola che intanto si stava diffondendo in Uganda. Quella brutta vicenda la portò a conoscere meglio la malattia. Ha fornito, dunque, alcune delucidazioni in proposito. Un gruppo di medici senza frontiere ci ha spiegato che l'ebola non poteva essere contratta così facilmente. Il virus ha un'incubazione velocissima e il contagio deve avvenire toccando la persona infetta, che nel momento in cui è tale non può muoversi perché la febbre alta la costringe a letto. In questo modo, si riesce a localizzare il virus e a impedire che si propaghi rapidamente. Barbara De Rossi, inoltre, invita a non creare allarmismi. È importante far conoscere il corso della diffusione della malattia prima di diffondere messaggi terrorizzanti per la popolazione. L'idea che si possa diffondere l'ebola è una cosa che certamente spaventa. Credo che sia bene stare molto attenti a queste malattie che provengono da paesi lontani ma senza creare allarmismi. Anche lei, però, è corsa ai ripari chiedendo alla figlia Martina di evitare di viaggiare in Europa. Direi che per ora le vacanze in Europa sono sospese. Per stare più tranquilla, aspetterei l'estate prossima. Sono abbastanza apprensiva e, al di là del problema ebola, mi sono sempre preoccupata per mia figlia perché negli ultimi anni sono aumentati casi di giovani ragazze che spariscono nel nulla. La vicenda di Ilenia Carrisi, la figlia di Albano e Romina Power, mi ha sempre angusciato molto. Chi se ne frega.